buongiorno ad obiettivo news oggi 12 novembre san josephat ed è la giornata mondiale contro la polmonite istituita nel 2009 da unicef e dalla world health organization la giornata mondiale contro la polmonite all'intento di aumentare la consapevolezza sulla patologia ma anche di promuovere interventi volti a proteggere prevenire e curare la malattia spingendo istituzione governi entra a prendere azioni decisive per combatterla la polmonite una malattia del sistema respiratorio causata da un'infezione più spesso virale o batterica al giorno d'oggi una malattia molto diffusa colpisce circa 450 milioni di persone l'anno in tutte le parti del mondo anche se i casi di polmonite si verificano circa cinque volte più frequentemente nei paesi in via di sviluppo piuttosto che nei paesi occidentali grazie a tutti